Amici appassionati di tecnologia, le sorprese non finiscono oggi perché Realme lancia anche il fratello del 12 5G, si chiama 12X5G, arriva in questa colorazione verde che a me fa impazzire, è più economico ma ha una sorpresa a livello software al suo interno, quindi vi consiglio di mettervi comodi, ve la racconto in questa recensione completa. Confezione di ventità del Realme 12X5G, all'interno non troviamo il caricatore ma una coverina trasparente, un cavetto di ricarica oltre a manualistica e spilla per estrarre il vano della doppia sim. Andiamo a mettere tutto su una parte perché arriva lui il 12X5G con un display da 6.67 pollici in risoluzione HD+, da 120Hz. All'inizio non volevo nemmeno crederci perché questo, credetemi, è il miglior schermo in HD+, disponibile sul mercato, almeno fra i telefoni che ho provato, con l'uniformità di movimento alta 120Hz standard o automatica. Ci sono i bordi, vabbè, quello non possiamo farci niente perché non si tratta di un telefono premium, non si tratta di un telefono da 1000€ e nelle informazioni sul dispositivo troviamo quello che ci interessa, ovvero il Dimensity 6100 Plus con 6GB di RAM ampliabili di altri 6, esiste anche la versione da 8GB di RAM. Come archiviazione abbiamo 128GB espandibili rinunciando al secondo slot della SIM. versione di Android 14 con le patch di sicurezza aprile 2024, quindi un dispositivo aggiornato ad Android 14 che va a far compagnia al suo fratello, già visto in un altro video, il Realme 12 5G. Lui ha 108 megapixel, lui ha 50 megapixel. Riprende il tema dell'orologio di lusso in questo oblò con il LED flash e riprende anche tutta la scocca in policarbonato, ma non è una scocca silver lucida sul lato come è lui. Perché qua riprendiamo la tinta della back cover con il jack audio per inserire auricolari a filo, la porta di ricarica e l'altoparlante. Altoparlante che ahimè è solo da solo, è mono, non ha l'aiuto della parte più in alto. E come impostazioni del menu siamo sullo stesso livello del fratello 12, quindi con le icone che si possono ridimensionare. Se andiamo qua nella sezione icone, possiamo selezionare dal più grande al più piccolo, cambiare i temi, ve lo faccio vedere rapidamente nella personalizzazione, quindi sfondi e stile, ecco qua, con un bel po' di temi scaricabili, come abbiamo visto nella recensione precedente. Un dispositivo che si sblocca con l'impronta laterale sul pulsante di accensione, è un'impronta che emette una vibrazione zanzarosa, si può disattivare comunque la vibrazione, e vi faccio vedere subito come gira questo smartphone. Andiamo sulla Repubblica, sito desktop, vedete? Non è un fulmine, ma siamo sullo stesso processore del 12, quindi se avete visto la recensione del 12 cambia veramente poco, con un minimo di attesa, quindi lavora bene sulla parte browser. Vi faccio vedere anche la parte di Facebook, quindi offerte Smart Italia. Un pochino lento a caricare tutto, ma una volta che ha caricato, vedete? Scorre tutto bene, vi faccio vedere anche questo, che è il multitasking. Torniamo su Facebook, vi faccio vedere la tastiera. Non cambia nulla rispetto al 12, quindi ciao a tutti. Instagram, con la mia pagina Chastitec, eccola qui, con tutte le belle fotine e le anteprime. Non abbiamo l'always on display, ma possiamo con il doppio tap accendere o spegnere il dispositivo. Vi faccio vedere ancora il menu, e per farvi vedere che questo display non è affatto male, anche se la risoluzione non è elevata, vado ad attivare la modalità scura. Guardate questo display, come? Solo in controluce manifesti i bordi. E finiamolo il capitolo fluidità. Apriamo Asphalt. Andiamo a premere su gioca, e mentre aspettiamo che il gioco inizi, punteggi Antutu e Geekbench. Vi ricordo che condivide lo stesso processore del 12, ma abbiamo una risoluzione più bassa di schermo e una minore RAM. Su questo dispositivo 6 giga più espansione. Andiamo a vedere che qualche piccolo lagghettino c'è, o meglio, freno a mano tirato, ma poi quando partiamo tutto migliora, forse erano i primi stanti. E in parallelo vi metto l'audio al massimo, perché vi faccio sentire che l'audio è mono, quindi se vado a tappare qua, praticamente ho annullato l'audio. Purtroppo, dico così, perché l'audio stereo, secondo me, è sempre da preferire. Alziamo il volume al massimo, e due cose. Due cose devo farvi vedere. La mini capsula, presente anche su questo modello, e anche su questo modello l'ultra volume al 200%. Se non avete visto la recensione del 12 vi faccio vedere questa tacca. Da qui siamo al 100%, posso andare oltre, attivare l'ultra volume, e apparirà scritto 200%. Oltretutto, questa è la mini capsula. Un'animazione grafica che va a riprendere un po' di informazioni dell'applicazione stessa, in questo caso musica, ma la possiamo vedere anche in azione sul meteo. Quindi la mattina, quando lui si connette alla rete, dopo le sei, vi farà vedere la stessa animazione con le previsioni del meteo, e poi la batteria scarica comparirà qua, sotto forma di, diciamo, alert rosso, e vi dirà di rimettere in carica. Se poi volete, diciamo che questa rimanga fissa, basterà far girare il lettore multimediale, quindi musica a ripetizione, col volume multimediale basso, e questa, vedete, non scomparirà. Altrimenti, se uscirete dal lettore multimediale, la mini capsula svanisce. Quindi una mini capsula non sempre presente, compare in certi momenti, telefonate buone, il sensore di prossimità lavora bene, non fa mai cilecca, e la ricezione è buona. Realme mi ha sempre convinto sulla ricezione. Siamo un po' meno performanti rispetto a Motorola, ma comunque, secondo me Realme prende bene, non ha mai grandi lacune. Vi parlo anche di autonomia, 5000 mAh di batteria, una batteria che dura tantissimo. Ieri ho completato il mio primo giorno a mezzanotte, avevo il 58% residuo, e avevo già fatto tre ore. Questa è la situazione attuale, 26% residuo, e ho più di 5 ore, quasi 5 ore e mezzo di schermo attivo. Lui ragazzi vi fa tranquillamente 7 ore di schermo, se non sono 7 sono 6 e mezzo, ma comunque l'autonomia è grandiosa. Peccato per la ricarica, solo 15 Watt. E adesso andiamo a vedere le chicche, qualcosa che mi ha colpito di questo smartphone, lo troviamo fra le caratteristiche speciali. Eccolo qua, Smart Sensing, ovvero usiamo il sensore qua in alto, per comandare il telefono. Dove possiamo sfruttare questo trucco? Lo possiamo usare sia nelle chiamate, posso rispondere a una chiamata facendo questo movimento qua, quindi dal palmo chiuso, apro e quindi rispondo alla telefonata. Potremmo cambiare la traccia di YouTube con il palmo della mano, muovendo avanti o indietro. Capitolo finale ragazzi, multimedialità. Ok, qui niente di entusiasmante, perché abbiamo una 50 megapixel, con l'assenza del grand'angolo, l'assenza della cam dedicata allo zoom, quindi possiamo fare 1x, 2x, e avvicinarci fino a un massimo di 10x, rispetto al 20 del fratello 12. Non manca la modalità ritratto, nella sezione altro abbiamo la Hi-Res, ovvero i 50 megapixel puri. Per quanto riguarda i video, ci fermiamo a 1080p 30 fps, modalità strada per andare ad agganciare il soggetto e continuare il focus su di lui anche quando si muove, e poi modalità notte presente. La selfie cam è da 8 megapixel, come abbiamo visto sul fratello 12, e allora come vengono le fotografie? Andiamo nella sezione camera, vi faccio vedere un po' di scatti, sono buoni, di giorno non noto la differenza con Realme 12, o meglio, se c'è è veramente minima, le foto viste sullo smartphone sono buone allo stesso modo, buona anche la messa a fuoco. Dove si va a vedere la differenza? Si va a vedere la differenza sullo zoom, perché il 12, come il 12 Pro, sono dedicati proprio allo zoom, senza perdita di dettaglio, qui invece lo zoom va un po' a perdersi, non in maniera drastica, comunque non è lo stesso tipo di fotografia, di notte anche qui lavora bene, perde qualcosina rispetto al 12, e selfie, come vi ho già detto, buoni, come per l'altro modello, di giorno, con un buon scontorno, ma non eccezionali. Amici appassionati, siamo al capitolo prezzo, quanto abbiamo speso. Lui di listino costa 199,99€, ovviamente su Amazon, ma sarà in promozione dal 20 al 30 maggio, a 179,99€, quindi va ad affiancarsi al fratello 12 5G, l'abbiamo visti entrambi nelle recensioni, io di questo piccoletto qua, posso dire solo che ha una super batteria, un display che pur essendo HD, rende, merita, diciamo che è un HD quasi nella fascia alta, e poi ha una fotocamera che di giorno vi può dare grandi soddisfazioni, e quell'intelligenza artificiale sta arrivando anche su tutta la serie 12, quindi magari viene rilasciata fra un giorno o due, quello non è ancora ufficiale, ha questa intelligenza artificiale che può fare sempre comodo, insomma, io aspetto i vostri commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questi due dispositivi, grazie per l'attenzione, tutti i link ovviamente sono sotto in descrizione al video, noi ci vediamo presto con nuove recensioni, e vi invito come al solito a lasciare un bel like, a iscrivervi al mio canale, e a consultare Offerte Smart Italia su Telegram e su Facebook per le offerte con codici sconto e cali di prezzo, eccetera, eccetera, sulla tecnologia. Alla prossima, ciao!